E poi Minerva ha parlato del sole e di un disastro avvenuto molto tempo fa e di un altro che sta per venire. In un futuro lontano, vero? Allora non abbiamo di che preoccuparci. Sì, forse il nostro lavoro è finito. Non sarebbe poi così male. Abbiamo potenziato l'arsenale mentre eri via. Ah, adesso è usanza accogliere i visitatori a colpi di cannone? Chiedo Venia, li abbiamo fatti montare appena qualche giorno fa. I miei uomini si stanno ancora addestrando. Bentornato Ezio. Ezio! Guardate, Ezio! Fatemi vedere! Buongiorno! Salute, Mario! Ma guardateli un po', quei due! Questo borgo diventa sempre più bello. Grazie a te. Fratello! Claudia. Fa piacere tornare a casa. E nostra madre? Sta bene. Avevo sentito dire che stavi tornando, ma sono lieta di vederlo coi miei occhi. La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto. Non pensavo che fossi tanto famoso. Caterina. È qui? È finita, dunque. Lo spagnolo è davvero morto. Stasera raduna gli altri nello studio di Mario. Mi spiegherò tutto lì. Preparati, Ezio. Sarai bersagliato di domande. Claudia, di alla contessa che attendo con ansia di incontrarla questa sera. Gli uomini in questa città sono delle signorine. Dovrei avere... Serve aiuto. Salve! Quanti fiori. Vostro marito è molto fortunato. Sono io la fortunata. Ci siete voi ad aiutarmi. Vediamo cosa posso fare. Prima potrei avervi dato un'impressione sbagliata. Ah sì? Non ho marito. I fiori sono per una festa. E io sono invitato? Alla festa di compleanno di Claudia, uditore alla villa. Se vorrete aiutarmi ancora, ho bisogno di una persona di classe che mi accompagni. Cosa vi fa pensare che io abbia classe? L'ho capito appena vi ho visto. Nessuno qui può vantare un simile portamento. Lo stesso Ezio, uditore? Ne resterebbe impressionato. Oh, che cosa sapete di Ezio? Claudia ne dice un gran bene, ma egli di rado le fa visita. A quanto ne so, tiene le distanze. Avete ragione. Le ho tenute. La festa doveva essere una sorpresa. Promettetemi di non dirlo a Claudia. Il mio silenzio è un prezzo, non credete? Confido di potervi offrire varie contropartite. Sarò lieto di valutarle appena arrivati. E ora, a proposito del mio silenzio. Un'idea ce l'avrei. Ma c'è una condizione. Qualsiasi cosa. Dovrete aspettare fino a domani. Se la cosa vi fa piacere, non sarò io ad oppormi. L'attesa sarà valsa la pena. Fidatevi di me. Fidatevi di me.